Ciao ragazzi, oggi è 28 settembre 2011 e faccio questo video per dirvi che oggi, appunto 28 settembre, con un giorno d'anticipo rispetto al previsto, finisce ufficialmente la mia vita sociale. La causa? PES 2012. Ok, facciamo un bel unboxing, allora vi faccio subito vedere questa che è una sorta di cartolina che danno il regalo al GameStop con il preordine, praticamente è una cartolina che va riscattata su Facebook per partecipare al Championship Manager, Scudetto, bla bla bla, gioco maggiore online, io non ho neanche Facebook, poi deciderò cosa farmene, comunque passiamo al gioco. Aspettate, mi servono le mani, dove è la linguetta? Eccola qua, ok. Ok, togliamo il cellophane, perfetto. Eccolo qua. Quest'anno, dopo tre anni se non sbaglio in cui ci ha messo in copertina, cioè stavolta Cristiano Ronaldo, vediamo il retro. Gioca come vuoi. Vabbè, le solite immagini, così. Le icone delle licenze, che sono il punto dolente di PES da sempre, apriamo. Vabbè, dentro troviamo il gioco, ovviamente. Così. Poi qui cosa abbiamo? Dimostra quanto vale, partecipa ai tornei... Vabbè, tornei di Prevolution, poi vedremo meglio. Una vittoria vale poco, se nessuno lo sa. Ah, vedete, il social network per Prevolution. Installare l'applicazione. Vabbè, queste poi sono cose che vedrò con calma e magari nella recensione che vi preannuncio farò a breve e vedremo meglio. Ho un manuale a colori. E vabbè, questi sono manuale, normale. Spiega i tasti, le modalità, le solite cose. Ma io direi di passare subito all'azione. Quindi facciamo così. Andiamo qui. E infiliamo la nostra bella copia del gioco. Oh! Stare per assistere alla prima assoluta di PES 2012, almeno per quanto mi riguarda. Oh, eccoci qui. Come vedete sto registrando la partita. Direttamente dalla Playstation. Perché in settimana mi è arrivato l'HDPVR. E quindi ora finalmente posso anche io registrare dei gameplay, magari fare i gameplay commentati. O semplicemente mettere un po' più di immagini nelle recensioni. Quindi aspettatevi più gameplay sul mio canale, insomma, in assoluto. Ho questo che state vedendo è PES 2012, appunto. È la prima volta che inserisco il gioco nella Playstation. Ora come sempre farò, come la tradizione, Roma-Lazio. Ogni anno quando esce PES la prima partita è sempre Roma-Lazio. E niente. Ah, ora qui esce subito il primo difetto del gioco. Ora mando un po' a veloce la formazione perché altrimenti vi annoierei. Comunque vediamo subito il primo difetto del gioco che è senza dubbio il fatto che il mercato è aggiornato praticamente per niente. Alla Roma c'è ancora Vucic, c'è Menez, c'è Simp... C'è ancora, che sto dicendo? È che mi sarebbe piaciuto che la Roma l'avesse venduto. Comunque vabbè. Non c'è nessuno di quelli nuovi. Non c'è Boyan, non c'è Osvaldo, non c'è Stegelenburg, non c'è nessuno. E a Lazio c'è ancora Zerate, non so se c'è Sissi, non ho fatto il tempo a vederlo. Comunque il mercato è aggiornato per niente, come al solito. I Stadi, vabbè, sono sempre quelli più o meno. Mercato che alcuni si chiamano tipo Stadi Orione, o cose simili, poi quello si modificherà con il file opzioni, che andrà ad aggiustare tutto, un tempo un mese, che facciano questo ben detto file opzioni. E aggiusteremo tutto quanto, avremo mercato aggiornato, loghi aggiornati e fatti bene, i nomi dei giocatori nelle squadre nazionali, quelle sconosciute. Insomma, attendo con ansia una bella patch per cominciare la Master League. Così da avere magari anche la Bundesliga, la Serie B o cose simili. Comunque, a cominciare la partita, questo quindi è il gameplay di PES 2012. Ma tra l'altro vi dico subito una cosa, i nomi sopra vedete che sono, nel video diciamo, che non sono disturbati, un pochino. Ecco, quello è un problema del video proprio, nel gioco ovviamente non è così. Oh, intanto guardate qui la Lazio, guardate i zarate, palla dentro e close, subito 1-0 della Lazio, pronti via. Comincia bene questa mia avventura a PES. No, vabbè, perché comunque ho notato che i controlli sono un po' più difficoltosi rispetto, cioè non difficoltosi, sono un po' diversi e di conseguenza risultano un po' antipatici all'inizio, finché non ci si prende la mano. E quindi niente, mi sono stato un po' spiazzato subito all'inizio della partita. Per il resto, i lanci per esempio, poi vedrete che sono, è cambiato il sistema in cui fare i lanci con cerchio praticamente. Io in PES 2011 giocavo molto con i lanci con i cambi di gioco, ho dovuto cambiare, diciamo, tattica per ora qui, perché i lanci sono completamente diversi, a volte anche se carichiamo tutta la barra del lancio appunto, del cross o di quel che è, tra l'altro qui guardate, nel vecchio PES premendo il cerchio tra quella posizione la palla andava automaticamente al centro, qui la dovremmo indirizzare noi perché altrimenti andiamo sul fondo, comunque altra differenza sempre ricordo i lanci. Dicevo appunto i lanci, a volte caricando tutta la barra esce una mozzarella che non va più di 10 metri, altre volte invece basta caricarla poco più della metà e la palla schizza via, quindi bisogna prenderci un po' la mano. E niente, adesso qui Borriello in campo aperto, davanti a Marchetti, Borriello sul tiro, c'è il pareggio della Roma e qui avrete sicuramente visto un altro, anzi forse direi l'ultimo grande difetto finora di PES, che sono i portieri, guardate Marchetti cosa, vabbè che Marchetti insomma fa così anche nella realtà, quindi da questo punto di vista vuol dirsi anche che PES sia realistico, però poi vedrete che non è solo Marchetti che fa queste cazzate, quindi per chi ha provato la demo già avrà notato che i portieri fanno abbastanza ridere nella demo, ecco nel gioco purtroppo non sono stati uniterati neanche un po', io spero arrivi presto una patch che aggiusti questa cosa perché altrimenti si segna da tutte le parti, quindi bel difetto insomma quello dei portieri. Sicuramente devo dire che se non altro raggiunge divertimento alle partite perché è più facile fare delle gole a, con un portieri così, però rimane un po' antipatico. Ecco vedete qui un lancio, un tipico lancio che in PES 2011 mi avrebbe aperto degli spazi sulla sinistra, invece qui mi è andato direttamente in fallo laterale, ma a quello neanche tanto perché di poco ci sono certi lanci orribili invece. Ah, ho dimenticato di dirvi una cosa, ovviamente appena ho messo il gioco mi ha aperto una sorta di editor per l'avatar e per il profilo che nel video vi ho tagliato per motivi di spazio ovviamente, e anche per motivi di noia perché sarebbe stato noioso. Comunque c'è questo editor che è una novità, ci è di crearci il nostro avatar e il nostro profilo, un po' di informazioni riguardo a noi, riguardo la nostra squadra preferibile, tutte queste cose qui. Quindi, un profilo che più che altro serve per chi gioca online, è una sorta di carta di identità online, insomma. E, ma niente, quindi è una cosa che vi portaria 10 minuti prima di cominciare a giocare. Oh, intanto qui sono passato con le immagini al secondo tempo, sempre per motivi di tempo perché sennò il video non sta nei 15 minuti che permette di migliorare YouTube. E quindi sono passato con le immagini al secondo tempo perché poi dal pareggio di Borrello sostanzialmente non è successo assolutamente niente. Mentre qui, qui sì, guardate Hernanes, guardate che cazzo di gol che ha fatto Hernanes. Paramente un gran gol, qui forse non, qui non credo che possa darsi la colpa al portiere perché guardate che punizione. Nonostante anche ho messo Giovanni sul palo, ma niente. Quindi, un gran gol di quello che chiamano il profeta. Il profeta di che cosa non si sa. Vabbè, quindi sono di nuovo sotto. Sono di nuovo sotto, non sto facendo una bella figura ragazzi, ma vabbè. E qui sono andato ancora un po' avanti con le immagini, sempre per lo stesso motivo. Non succede niente, risparmio tempo perché sono ai 15 minuti, lì supero. E quindi, diciamo che vi ho fatto più che la partita intera, vi ho fatto una sorta di riassunto perché altrimenti non ce l'avrei fatta. E quindi niente, sono passato al settantesimo circa. E qui si infuicherà la partita, come vedete. Ecco qui intanto, saremo uno della Lazio. E qui è un'altra bella cazzata del portiere, guardate. Tiro centralissimo. Il portiere se la fa passare sotto la scella, è una cosa veramente snervante. Entra Cana, esce l'edismo. E quindi 3-1. Ora provo a reagire. Anche se non è facile. Tra l'altro, anche per chi ama fare molto con lo stesso palla, bisogna fare attenzione. Intanto guardate, guardate che gol Totti. Questo, devo dire che sulle prime, mi sembrava un'altra cazzata del portiere. Invece guardando il replay, ora vedremo che è solo un gran gol del capitano. Ecco qua, vedete, un tiro angolatissimo, che sinceramente, non so quale portiere l'avremmo presa. E quindi, come nella realtà, anche nel gioco, il capitano si carica sulle spalle la squadra. E via così. 3-2 partita che è aperta. Dicevo, per chi fa possesso palla, bisogna anche riprendere la mano un po' con il sistema di passaggi, perché stavolta veramente sono realmente indirizzati i passaggi. Cioè, disattivando tutti gli aiuti, tipo il passaggio assistito, queste cazzate qui. Praticamente il passaggio lo dobbiamo indirizzare noi. Non basterà premere X, perché altrimenti la palla va dritta. Quindi bisogna iniziare il passaggio. Intanto guardate che altro gran gol. Questo invece è il contrario del gol di Totti. A vederlo sembrava un gran gol. E invece... Tra l'altro c'è ancora Giulio Sergio in porta. Vabbè, guardate Giulio Sergio. Tanto valeva metterci delle sedie in porta. Arebbero parato di più, credo, di questi portieri scrausi. Dunque, 4-2, mancano 13 minuti. Mi sa che il mio esorde pass non sarà un granché. E vabbè, dicevo, quindi il sistema di passaggio anche bisogna prenderci la mano. Perché appunto è veramente passaggio normale. Ah, poi c'è finalmente il movimento a 360 gradi. In mezzo al campo. Per chi gioca con le levette, io sinceramente gioco con le frecce perché sono abitato così nei tempi della PlayStation 1. Quindi non mi piace giocare i giochi di calcio con le levette. Però per chi gioca con le levette c'è questa possibilità. Di appunto muoversi a 360 gradi. Ragazzi, qui siamo nel recupero. La partita sta per finire. Ok, qui c'è il gol di Totti. 4-3. La partita finisce così. E quindi questa è stata la mia prima partita. Ho perso 2012 insieme a voi. E quindi niente. Io vi saluto ragazzi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. È stata una partita bella, molto combattuta e abbastanza aperta. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao ragazzi. Grazie a tutti.